Mercato del Giarre sempre in fermento perché appena 20 giorni mancano al raduno. L'obiettivo è consegnare a mister Giancarlo Fichera una rosa quanto più completa possibile, almeno al 90%. Per l'attacco, oltre ad aspettare la risposta di Dani e Laleo, le cui possibilità di rimanere in giallo-blu si fanno sempre più alte, si è aperta anche una trattativa con il fratello Salvo, che l'anno scorso iniziò la stagione al Giarre, ma l'ha conclusa all'Atletico Pedara in promozione. Salvo Aleo, nello scacchiere tattico di Fichera, può essere l'alternativa al fratello Daniel al centro dell'attacco, oppure può ricoprire il ruolo di esterno sia a destra che a sinistra. Con i fratelli Aleo e con Marius Dumitrascu poi servirebbe solo un quarto elemento con maggiore fisicità per completare il reparto avanzato. Giulio Nirelli nel prossimo weekend si sta muovendo in modo determinato per il difensore centrale, che è forse la vera emergenza della rosa-giallo-blu in questa fase. Serve un nome di categoria da affiancare a Saro Patanè. 3-4 trattative sono aperte, tutte però nella fase iniziale. Tra domenica e sera e lunedì si attendono novità concrete.